Basta morte, basta tragedie, basta dolore Sulla Fantina, questa volta però davvero è questa la nostra nuova sfida, vogliamo che la voce del dolore e la rabbia della tristezza non vengano soppiti dal tempo, è arrivato il momento di chiedere alle istituzioni di non fermarsi all'emergenza, di non dimenticare le giovani vite spezzate da quella strada che è un'assassina incolpevole perché costruita per 50 anni fa, ecco perché questa volta rispettando il diritto e dovere di cronaca non ci fermeremo ai soliti titoli e andremo avanti, chiederemo in prefettura quali gli esiti dei tavoli tecnici permanenti del 2013, chiederemo ai sindaci perché non hanno incalzato i gestori provinciali regionali e nazionali di quell'arteria, chiederemo all'ANAS che fine ha fatto quel progetto di allargamento delle corsie di qualche decennio fa, chiederemo alle forze dell'ordine maggiori controlli soprattutto sulla velocità, chiederemo ai cittadini di stare al nostro fianco in questa battaglia, il tutto per ricordare quelle vite spezzate, quei dolci e giovani sorrisi strappati all'amore di intere famiglie, ma anche per non ripetere la solita ed inutile cronaca di un'ennesima morte, purtroppo spesso annunciata, ed ecco allora il nostro ennesimo viaggio su quell'arteria, tutti la chiamano la strada della morte, ma nessuno fa nulla per disarmare quel killer incosciente. Confine Basilicata-Campania inizia qui ed arriva a Vellino, l'ofantina della provincia irpina della regione Campania, la strada della morte, l'arteria che ha visto tanti giovani purtroppo perdere la vita, ma la nostra domanda, che cosa si è fatto dopo un momento topico del 2013, quando dopo tre o quattro morti nel giro di pochi mesi si iniziarono vari tavoli tecnici, operativi in prefettura da Vellino, tutto di nuovo tace, con una particolarità, continuano gli incidenti immortali su questa strada. E allora noi di Telenostra, come promesso la scorsa settimana dopo la tragica morte della 29enne di Montella, siamo tornati su questa arteria, vogliamo farvi capire quante tragedie ci sono state, quanto strazio di tante famiglie. Partiamo appunto dal confine tra Basilicata e Campania e qui la prima vittima, come ci farà vedere l'operatore Luciano Mangiante, qui purtroppo è morto un signore di Sant'Andrea di Conza, quindi Alta Erpina, che è stato schiacciato con la sua macchina da un autotreno che trasportava cemento in polvere. Questa è una tragedia di qualche anno fa che riaccese i riflettori su questa strada, però c'è un problema, i riflettori si spengono puntualmente una settimana, 15 giorni dopo le tragedie. E siamo nei pressi di Calitri con il signor Antonio Tuozzolo che gestisce un distributore di carburanti qui sull'Ofantina. Questa è definita spesso e volentieri la strada della morte. Lei che nota su questa strada? Questa strada bisogna migliorarla, c'era un vecchio progetto negli anni passati che poi non si sa che fine abbia fatto, perché c'era un vecchio progetto di 10 miliardi delle vecchie lire, tra l'ANAS di Potenza e l'ANAS di Napoli, insomma, come competenza, perché siamo a cavalli di regione e quindi le competenze a volte si accavallano. C'era questo vecchio progetto per l'allargamento, perché ce n'è bisogno, perché è trafficata molto sia dai mezzi pesanti che dal traffico leggero, insomma, specialmente d'estate con camioni di pomodori, la Fiat, le Bisarche che viaggiano e quindi c'è bisogno di un allargamento di questa strada, per evitare tante cose, insomma. Quali sono, secondo lei, i pericoli più importanti su questa strada, più gravi? Bisogna migliorare la viabilità e l'allargamento di questa strada, questo sarebbe indispensabile, specialmente nel tratto tra Calitri e Rocchetta, insomma. Essendo da tempo su questa strada, è mai stato testimone purtroppo di qualche tragedia? Sì, c'è stato qualche incidente, specialmente quando la strada è viscida. Vito Farese, ex sindaco di Conza della Campania, oggi consigliere comunale a Conza e consigliere provinciale del PD. Vito Farese, stiamo tornando ancora una volta a parlare di morte sull'Ofantina. Conza nel 2013 ha visto qualcosa di tragico e dir poco, con tre giovani che hanno perso la vita. Noi siamo proprio nel posto in cui due ragazzi, poco più che ventenni, hanno perso la vita. Voi in quei momenti avete gridato con forza e avete fatto sentire la vostra voce, ma dopo quello si è visto poco. Purtroppo sì, è così e questo è un fatto diciamo abbastanza grave perché in effetti questa è una strada che non è stata modificata per niente negli ultimi 50 anni. E se si immagini che 50 anni fa c'era un carico di traffico dieci volte inferiore rispetto a quello attuale, evidentemente questa è una strada che non può dare garanzie di sicurezza. Io voglio ricordare che qualche anno prima c'era stato un altro incidente a 500 metri da qua che vide morire Sergio Rosamiglia con l'ambulanza tra l'altro. Anche quello perché c'era un ostacolo praticamente lungo le sponde della strada, come in questo caso ed è rimasto esattamente come era quella terribile notte che trascorremmo qui nella speranza di vedere i ragazzi poter ritornare a casa e invece dovemmo constatare il decesso di due di loro e per fortuna gli altri due si sono ripresi. Però è vergognoso che da allora non c'è stato assolutamente nessun intervento, non ci possono essere questi ostacoli trasversali sui lati della strada, non ci fosse stato questo puretto, la macchina sarebbe andata nel terreno, non ci sarebbe stata la tragedia e quindi credo che bisogna intervenire e anche urgentemente per evitare che ci siano altri ragazzi, altre vittime della strada. Vito Farese, noi vogliamo provare a estorcere alle istituzioni, alla politica, proveremo anche con l'ANAS durante questa settimana di servizi sull'Ofantina qualche promessa. Che promessa si sente di fare Vito Farese come consigliere provinciale o meglio che si potrebbe fare per lanciare un messaggio forte e far capire che in qualsiasi modo bisogna intervenire su questa strada? Evidentemente prenderemo anche noi iniziative, partendo dalla provincia e interessando anche il prefetto su questa questione, in maniera tale da sensibilizzare in maniera forte la regione e per essa l'ANAS in maniera tale da arrivare a poter dare una sicurezza ai nostri cittadini che si recano al lavoro o per qualsiasi motivo hanno necessità di mobilitarsi sul nostro territorio. E siamo nel punto in cui si è registrata purtroppo sull'Ofantina una delle tragedie più tristi, più atroci degli ultimi anni. Nella notte di Pasqua del 2013, in questo punto ha perso la vita una giovanissima di Conza della Campania che, come si può vedere dalle immagini, cadde nel fiume con la sua auto e fu ritrovata dopo qualche giorno. Ricordiamo in quei giorni tanta la solidarietà a tutti i cittadini di Conza a cercare la ragazza nel fiume, tanti cittadini e protezioni civili delle zone circostanti, ma poi soltanto il reparto dei sommozzatori, dei vigili del fuoco ritrovò il corpo della giovane di Conza della Campania. Come vedete però la particolarità, quello che dicevamo prima, sul posto non è cambiato assolutamente nulla. Innanzitutto c'è da dire, è mai possibile che ci sia una barriera così bassa a pochi metri da un fiume, a pochi metri da una cascata, se il nostro cameraman va sulla cascata, questa cascata che è di circa 15 metri, una barriera alta sì e no un metro e mezzo. E che cosa si è fatto? Assolutamente niente, la barriera resta la stessa, sono stati aggiunti questi massi di cemento per evitare che, secondo chi ha posizionato tutto questo sull'ofantina, per evitare che ci sia una nuova tragedia. È qualcosa di praticamente assurdo. Qui è morta una ragazza di 19 anni, ci vuole rispetto per quella morte, ci vuole rispetto per le vite umane che percorrono questa strada quotidianamente. Non abbiamo nessuno ai nostri microfoni, ma in queste ore abbiamo registrato la tristezza e l'angoscia della famiglia della giovane di Conza della Campania che dopo quattro anni ancora non sa quasi nulla delle indagini, ancora non sa ciò che è il risultato da quelle indagini. Quindi una giovane di 19 anni ha perso la vita e le condizioni del posto in cui ha perso la vita sono uguali o peggio a quelle di quella maledetta notte. E continua il nostro viaggio sull'ofantina, sulla strada della morte. Siamo tra Montella e Monte Marano, su uno dei ponti che è stato scenario purtroppo anche negli ultimi anni di vari incidenti mortali. Proprio vicino a quelle barriere qualche anno fa ha perso la vita un giovane di Cassano Irpino. Non è segnalato questo incidente mortale con dei morti come tanti altri incidenti che non sono segnalati con i fiori ma sono segnalati dalla tristezza e dal dolore delle famiglie che ogni volta percorrono questa arteria. Andando avanti a Montemarano, al vivo di Montemarano, altro incidente mortale sempre di un cittadino di Cassano Irpino qualche anno fa e poi vedremo ancora fino ad arrivare ad Avellino. Come vedete alle mie spalle sia i mezzi pesanti che le automobili non rallentano assolutamente in questo tratto, il che significa che forse bisogna intervenire anche con il famoso autoveloc, se quindi provare a limitare l'irruenza degli automobilisti. Noi comunque continuiamo in questo viaggio per farvi capire che non per caso l'Ofantina è chiamata la strada della morte. E si conclude qui a pochi chilometri da Avellino il nostro viaggio sull'Ofantina, la strada della morte. Siamo partiti da Ruvo del Monte ai confini tra Campania e Basilicata per arrivare qui a pochi chilometri appunto dal capoluogo Irpino presso lo svincolo di Candida. Sulla strada tanti fiori, tanti altarini, tanti lumini a segnalare la morte, a segnalare la tragedia che purtroppo colpisce questa arteria con una cadenza quasi bensile. Siamo su questo punto perché proprio qui qualche giorno fa ha perso la vita una ragazza di Montella che viveva a Montemarano, una giovane 29enne con tanta gioia di vivere. Proprio in queste ore si stanno svolgendo i funerali della ragazza di Montella in migliaia ad abbracciare la famiglia in questo momento di dolore. E noi di Telenostra questa volta però non ci stiamo a fare un semplice titolo e poi a dimenticare la morte su questa strada. Ripartiremo ancora più forti da domani per provare a far sentire alle istituzioni, ai sindaci ma forse anche alla politica il bisogno, la necessità di intervenire su questa arteria per evitare un nuovo titolo, per evitare una nuova tragedia. E su questo punteremo da domani. Intanto per adesso finisce questo nostro speciale, questo nostro triste speciale che ha percorso possiamo dire la morte sull'Ofantina ma noi saremo ancora una volta in campo, ripeto, per evitare che la parola morte si possa associare nei prossimi mesi nuovamente con la parola Ofantina. Grazie per la visione! Grazie per la visione!